Allora, io presento questa serata, sono la direttrice artistica di questa mostra e presento innanzitutto il maestro Tamaya Shobei, nono erede di una famiglia di costruttori di Karakuri Ningyo, di queste macchine, di questi giocattoli particolari che sono bambole, meccaniche, ma come vedrete dire bambola è un po' poco. Io sono Shobei Tamaia, sono nono discendente della famiglia. Nostro Antenata è iniziato nel 1734. Noi stiamo costruendo le bambole Karakuri da 270 anni, è l'unica famiglia che esiste in Giappone che si impiega per questo mestiere. Grazie. Di bambola Karakuri ci sono due tipi, uno si chiama Dashi Karakuri, che vengono utilizzate durante le feste giapponesi, mentre l'altro si chiamano Zashiki Karakuri, che si tengono in casa. Noi possiamo oggi far vedere le Zashiki Karakuri, perché sono di dimensioni abbastanza piccole, e invece quelle di Dashi Karakuri sono molto grandi, e quindi vi facciamo vedere su video dopo. Grazie. Originalmente il nostro lavoro della famiglia Tamaya è stato di ristrutturare le bambole antiche e in più costruiamo anche quelle nuove. Ora vi mostro come funzionano queste bambole. Questa è la bambole Karakuri, quella più semplice, era di Edo. Si muove solo con due fili ma fa dei movimenti molto interessanti. Scusi, fate. Questa bambole è fatta solo della carta e dei fili. E' legno. Scusi. 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 Grazie. 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 Le bambole da sci e caracoli sono delle bambole che sono sopraelevate, quindi spettatori vedono solo le bambole e invece le persone che manovrano sono coperte sotto. In Europa voi avete delle bambole che manovrate prendendo il bambole da sotto e quindi si vede anche la figura delle persone. E così anche la posizione delle persone che manovrano magari presenterà un po' la differenza culturale tra Europa e Giappone. Grazie. 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 Grazie a tutti. Purtroppo siamo a Torino e non abbiamo il tè giapponese e quindi invece del tè vorremmo offrirle una cosa che ti attacca al cellulare, l'improvio bambola. Adesso parte la bambola, quando si avvicina e poi il maestro dice doso, lei può prendere la tazza in mano e poi può tirare fuori. E poi rimettere il tazzoio. Grazie. 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 e questa è fatta di... carin di cotogno e questo è fatto di... di cotogno per preparare proprio questo ingranaggio ci vogliono tre mesi perché questa qui si vede poco ma è fatta di otto pezzi di leno sono otto pezzi tagliati verticalmente in modo da non far perdere ogni punta e quindi ci vogliono tre mesi solo per preparare questa ingranaccia e così riusciamo a preparare un ingranaccio che non si spezza non perde il pezzo oppure non si restringe quindi dipende dall'umidità che crea molte problemi in Giappone e questo mola è fatta di cercare e questo il cibo è messo ma questo è il cibo e questo nous assi sono di mercato Allora, questa molla è fatta di ferro. E dato che la molla è molto lunga e molto forte anche. L'idea di questa bambola è nata dal loro loggio. Allora, la molla è fatta di ferro. Dall'inizio fino alla fine c'è una cosa che fa il ruolo di tendolo nel caso di orologio. Si chiamano ganghi che è fatta di bosco e quello che regola la velocità si chiama tempo e è fatta di evano. E poi, il tachè, il tachè, il tachè, il tachè, il tachè, il tachè, il tachè. E oltre a questi sei tipi di legno, utilizziamo anche il bambù per le aste di spinta. Il tachè è un pin, come questa cosa, con il tachè, con il tachè, con il tachè. Dato che non si utilizza il metà, non si usa il bambù. Se il tachè, il tachè, il tachè, con 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 il tachè. Togliendo le aste di bambù, in cinque minuti, questa bambola viene completamente sbuntata. Si può staccare anche le spalle. Grazie. 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 Allora avete visto che la bambola è tornata indietro, a un certo punto si è fermata e è tornata indietro. Adesso faccio vedere come. Si può regolare dove si torna indietro nell'arco di 180 centimetri. E se vuole trovare un'altra persona ancora? Grazie. 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 Adesso facciamo arrivare al punto più lontano possibile. Grazie. 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 Se faccio partire da qua, lui fa il tragetto più lungo. Possiamo spostare la posizione di questa leva e così cambia anche la lunghezza del tragetto. E calcolando la posizione dell'ospite, chi offre regola dà la lunghezza. Questa vangola che avete appena visto è la vangola che è stata costruita nel 1650 nell'era di Edo. Grazie.